Salve a tutti, benvenuti a una puntata di questa serie su Far Cry Newton chiamata Cambiamento del Governo Come sono arrivato qui e ti ho avvicinato a questo, sto dicendo ai teatro, attenzione delle gemelle, mi dispiace Che vuol dire? Ok Grande campo caravan, ebbè un altro avamposto, ok Allora Io so già cosa potenziare Ora sono venuto qui per un motivo Ci manca un solo potenziamento da fare, credo per andare avanti E penso di sapere già cosa fare Allora Allora, potenzia Questo devo fare Oh, ecco fatto Così Almeno Avendo spedizioni livello 1 Almeno Potremmo Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì della strada ti saranno addosso. Ti segnalo un punto di estrazione e arrivo con l'elicottero a prenderti. Ah. Fatti sentire quando vuoi andare. Io? Sono pronto quando vuoi. Sì, ma io tutta questa voglia non ce l'ho. Qua cosa? Grazie per il carburante. Eh. 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 No, non voglio farlo adesso. Eh. 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 No. Eh. Eh. Scherzavo. I guerrieri della strada saranno incazzati come serpente. Quindi dobbiamo scappare con il vento. Allora? Vai. Andiamo. Andiamo. No. No. No, io non voglio fare la spedizione. No, non mi va. Non mi va a fare spedizione. Non adesso. Io ho potenziato questa roba soltanto per sbloccarmi il viaggio rapido. Soltanto aspetta che devo andare a parlare con qualcuno. Aspetta che devo andare a parlare con qualcuno. Allora. Devo potenziare. Ok. Potenzia. Oh. E portiamo Prosperity a livello 2. Va bene. Oh. Alla grande. Benissimo così. Temo che avremo a che fare adesso con le gemelle. ma ecco infatti. Sì. Va bene. Va bene. Va bene. La mamma ha voluto fare una bella cenetta per tutti per sollevare il morale. Ah. Ma sì. Giusto. Ah. Non ricordi l'ultima volta che abbiamo avuto così tanta gente. Forse quando ho detto a tutta la città che ero incinta di te. Mamma. Sì. Vabbè. Erano tutti felici per noi. Ah. Non è perfetto. C'è ancora molto da fare. Ma è bello avere ancora qualcosa di cui essere felice. Giusto. Però le sante. Tutto questo non esisterebbe senza vita. Vabbè grazie. Forza. Facci una bevuta. Te la meriti. Va bene. Tetto. Ecco. Prendiamo una birretta. eccolo. Lo sapevo che c'era qualcosa da adesso. Sapevo che c'era qualcosa ora. Oh no. Dovreste metterle via. Non vorrete spaventare i bambini? Carmina. Andrà tutto bene. Mi dispiace non mi piacciono le persone che raccontano bugie ai bambini. Perché lo stai facendo? La colpa è del tuo caro eroe. Andava tutto perfettamente prima che arrivaste ma tu. Tu sei un cazzo di problema. Ci portate via la roba e sputtanate tutti gli equilibri. Premo ucciderli e basta. No. Un momento. Non vogliamo creare dei martiri. Quello che vogliamo è che tutti quanti capiscano che il vostro aiuto è una maledizione. Ogni persona che aiutate. Ogni bambino che ispirate. Ogni posto che costruite. Noi ve lo porteremo via. Quando non avrete più niente. Verremo a prendere. Non farla cadere. l'unica moneta di questo mondo è il potere. Voi ci avete fatto sembrare deboli. Dovete smettere! Ora! Ci prenderemo tutto ciò che avete a cuore. A partire dalla vostra casa. E se non possiamo prendercela la bruceremo. Sparite per quando torneremo. Gigi e Giovanna non hanno preso bene diciamo le nostre le nostre iniziative ma insomma c'era da aspettarselo ok va bene ok abbiamo abbiamo capito la situazione allora io ah mentre è peggio mentre è livello potenziamo qua ok così posso fare un bel po' di viaggi rapidi un po' in giro per il mondo per spostarmi meglio non è male ora un'altra cosa che mi serve potenziare qua cosa che non posso fare vabbè scherzavo scherzavo rifornimento munizioni sono al completo armi ci abbiamo livello 2 al momento livello 3 presumo ancora non si possa fare ok va bene va bene e finora è una fortuna essere vivi dopo quell'incidente ancora ci pensi vabbè comunque io a questo punto cartografo che cosa aumenta il cartografo cosa che serve usa per cosa mappe usa per acquistare mappe mappe di che cosa mappe le scorte con componenti mappe le scorte con nastro adesivo non lo so non lo so piuttosto guardiamo un attimo la situazione vediamo un po' la mappa vediamo un po' allora la cosa buona è che qua tutti i vari posti dove ci sono scorte dove ci sono robe si può fare adesso il viaggio rapido il che è interessante perché vuol dire che se dobbiamo qualsiasi posto dobbiamo andare potrebbe esserci una cosa di scorte vicina cosa di scorte vicina e quindi possiamo impostarci molto velocemente mi crae ci sono un po' di avamposti qui ma quello che conviene siamo sono tutti lontani cosa Thomas ah dobbiamo andare da Rush allora dove è Rush dove è Tommy aspetta ok dove è Rush 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 Tommy Rush Thomas dove è Rush devo andare a parlare con Rush va bene spero che continua a non vedere dove è Rush Thomas qua mi dice devo parlare con Rush ma non vedo mi si è buggato per caso tu che state facendo voi va bene ci serve tutto l'aiuto che puoi darci ok perfetto però io dove è Rush Rush no non è qua Rush Rush bravo ma dove è Rush Rush porca miseria Rush dove è caspita sei vabbè ne ho pieno Rush la porta è chiusa Rush Rush vabbè io non riesco a capire che cosa dobbiamo vabbè usciamo Carmina esce pure ma Rush dov'è qua mi dice missione principale Rush 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 ma mi si è buggato in qualche maniera non lo so Rush 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 vabbè e andiamo a fare qualcos'altro eh io andiamo a fare qualcos'altro andiamo a fare qualcos'altro va direi qua spostamento rapido qui e che cavolo però vabbè è una rottura di scatole sta cosa cioè porca miseria vabbè spostamento rapido ok però porca Rush dice missione principale mi si è buggato non lo so io non vabbè ok comunque salve vittoria di nottami noi andiamo a questo traccia ma non è che adesso posso no cioè mi segna la cosa di ma non ok andiamo andiamo con l'avamposto andiamo ad arrivarci forse in là aspetta che c'è una roba aspetta che c'è una roba oh olè vedi che cosa che abbiamo fatto allora interagisci un po' di resource vabbè nulla di che è a posto a posto saccheggiamo un po' di questi taccheggiamo questo e uuuu aspetta che c'è aspetta che c'è aspetta che c'è aspetta che c'è ciao eh saccheggiamo questo uuuu allora uuuu 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 va bene va benissimo e adesso andiamo 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 aspetta c'è un tizio in quale parlare aspetta nooo non mi rompete non mi rompete ball ma mamma dov'è ne ho parlato con que senta lei mi scusi ma porca di anima dico pure tu però camminare una foresta così dov'è dove sei aspetta famiglia di male la tizia dov'è dov'è la tizia che è morta è morta da beh che potevano darci notizie di un altro pan posto no niente mettono sentino di sega ossa va bene cos'è questo posto cos'è cosa ok qua ci sono delle robe io me le prendo mamma ok ok cosa c'è qui non riuscirò mai a mettere ordine in questo posto speravo che fosse diventare una casa o almeno andarci vicino ma anche sotto la robaccia rimasta nell'inferno c'è tanta altra che nemmeno a raggiungere maledetto mal di schiena ok si va bene diamoci da fare là c'è la van posto ok come prima cerchiamoci cosa è che quale cattivo hai visto ahhh vabbè ok il bomb aspetta ma pattuglia così a caso sta pattuglia completamente a caso qui vabbè diciamo che l'obiettivo era non avvicinarci senza farci notare non è proprio cosa cosa ah se ne vanno ok bene che mi devi attaccare se mi devi attaccare ti secco io prima va bene ok ho capito a posto a posto niente non si può neanche assaltare liberare una van pox in santa pace niente che va in macchina allora allora è ora è ora ancora altre bestie va bene aspetta che c'è uno che sta facendo roba brutta aspetta che lo vado a prender dove sta andando? che fa? vola? ma chi fa? voli? eh non riescerò a lungo eh non riescerò a lungo che cosa stai facendo tu? vabbè senti aspetta che qua dove? vabbè Carmina ciao eh ho capito tu dai io c'ho pure personaggio che corre un cazzo ok ok sono lottato un casino per nulla dove sono qua a 300 metri c'è una roba c'è questo ah ok già l'avevo scoperto sentiero di sega ossa facciamo una cosa spostamento di rapido di là e noi ci salutiamo ci vediamo un appuntamento alla prossima ciao 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 ciao